Buongiorno, oggi che bella giornata, ci sono anche un po' di novità abbastanza interessanti, non tantissime ma curiose. Sono arrivati i primi click del shopping organico, finalmente, ganzo, l'avete fatto tutta la procedura, vi siete collegati a Paypal, non perdete tempo, è un buon momento per farlo. Una bella domanda che hanno posto è, ma il valore dei link invecchia? È curiosa come domanda e la risposta di Google è abbastanza interessante, quindi vi consiglio di leggerla, ma in sostanza dipende, come sempre. Da cosa dipende? Se la sorgente di quel link lì è tuttora attuale, no, quel link continua a valere. Se invece quel link viene da qualcosa che oggi è finito nel dimenticatoio, come il logico, vale di meno. Una bella guida su come integrare Google Maps in Data Studio, molto curiosa. Perché e come ottimizzare le immagini in Google My Business? Anche questa è molto bellina, è un qualche appunto che però ci dice di starci dietro. Caricarci immagini di qualità e questo mi sorprende, non l'avevo fatto io, eliminare le immagini che non sono più attuali. Quindi se è il mio catalogo vecchio, forse conviene elevarlo. Su questo farei una valutazione, però consiglio questo. Inoltre anche il fatto se ho più sedi, ha senso usare le stesse foto su più sedi? Anche lì, dipende. Se quella foto appunto è condivisa dalle varie sedi, ci può anche stare, ma tendenzialmente sembra che sia meglio usare foto univoche, ma sempre di qualità. Questo secondo me è molto carino. Una guida che invece è davvero interessante è visualizzare i termini di ricerca di shopping su Analytics. Ho sempre da provarla, l'ho appena letta, mi piace molto. Sulle campagne shopping standard possiamo anche mettere le parole, i termini di ricerca è negativo, quindi può anche essere utile nell'ottimizzazione della campagna, oltre che nella comprensione. Sulla shopping intelligente è negativo, non le puoi mettere. Mi domando se mi dà i risultati anche sulla shopping intelligente, però è una cosa assolutamente da provare. Sicuramente fornisce molti dati in più su cui ragionare. Poi Facebook non impone più l'ottimizzazione del budget di campagna in CBO, meglio, sono contento così. E poi invece approfitto di questa giornata per approfondire un pochino un tema. Ma come si vende online? Come si fa la SEO online? Cosa vuol dire questa roba qui? Questa rubrica del cavolo, no? Tipo si affronta le novità del giorno. Ma per la SEO non c'è il trucco, non c'è quella cosina che faccio questa e ho fatto gol. Questa è una conversazione che spesso mi ritrovo un po' a fare, tra virgolette, con il cliente. Dov'è lo sgamo? Non c'è lo sgamo. Fare la SEO è qualcosa di diverso, no? Cioè vendere online è qualcosa di diverso. Quello che dobbiamo fare online, il trucchettino ci può aiutare, oggi che ne so, appunto, mi arrivano i click dallo shopping gratuito, eccetera, eccetera. Bene, è un vantaggio. Oggi, ma fra tre mesi ci saranno tutti. Finito quel vantaggio. Cosa bisogna fare? Utilizzare questa finestra di tre mesi, dove forse siamo un pochino avvantaggiati, per capitalizzare un traffico. Che significa? Significa che noi dobbiamo decidere, in un mare super saturo di gente, di aziende che producono, rivendono gli stessi prodotti, dobbiamo differenziarci. Quindi, prendiamo un canale e siamo incessanti. Cioè, martellare, fare, fare, fare. Scrivo articoli, scrivo. Se io vendo le carriole, se uno cerca carriole, deve avere a che fare con me. E non devo fare un articolo che sia, sì, certo, SEO, tutte le regoline per cercare di fare il contenuto che si vende meglio, ma come si può dire? La SEO e tutte queste regoline, eccetera, eccetera, sono un acceleratore, un contorno di un contenuto. Se il contenuto se ne è poco o fa cacare, non va. Da me si dice, se metti un fiocco o un maiale, è sempre un maiale rimane, non è diventato tanto elegante. Uguale, vale qui. Serve contenuto. Bisogna diventare un riferimento nella nostra nicchia. Scegliamo una piattaforma, io Facebook, quello YouTube, quell'altro scrive il contenuto e lì ci devo essere. Se si parla di quell'argomento, ci devo essere. È faticoso, è un investimento, non è una cosa che si fa in 5 minuti. È per questo che dobbiamo, appunto, capire qual è il nostro target, qual è il nostro obiettivo. Imparare a raccontare quella storia lì, raccontarla in modo nostro. Arriviamo al paradosso che se io oggi appunto vendo sedie e quindi ho una clientela che fruisce con me nell'ambito sedie, se un domani farò un lampione, bisogna arrivare al paradosso per cui la persona a cui dirò sto per fare un lampione, già si immagini come farò io un lampione, perché appunto conosce il mio modo di pormi, di fare. Questa cosa qui è molto importante, quindi io credo che sia necessario investire su questo aspetto, quindi a meno che tu non sia un fenomeno, cioè nel senso se sei il più bravo del mondo poi fa una cosa ogni tanto e la fai benissimo, ma normalmente si impara a fare le cose, il mondo per imparare a fare le cose è provarci, 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 insiste e si sbaglia, quando si sbaglia si ammette l'errore, si corregge il tiro, bisogna avere un rapporto di fiducia reale con l'utente. L'utente deve capire che non lo stai prendendo in giro e questo vale per tutto, cioè qualsiasi e-commerce, qualsiasi azienda voglia vendere a un pubblico a cui deve parlare e verso la quale deve divenire un riferimento e quindi avere un dialogo sano e vero. Poi basta, ne sono scritto altro. Insomma, facciamolo a modo nostro. Che altro da aggiungere? Ecco, in breve avere il vostro punto di vista, cioè trasformare qualche cosa, una visibilità iniziale, in qualche cosa che posso trascinare nel tempo che si fida di me. Quando io voglio la carriola so che è lui quello che ne sa di carriola e vado da lui. Spero di essermi spiegato e buona giornata.